Oggi parliamo della Model Y versione 7 posti perché forse forse arriva anche in Europa. Poi viene reintrodotto il programma referral per ora negli Stati Uniti ma lo aspettiamo anche in Europa e arrivano anche le gomme e cerchi invernali per Model 3 Performance. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. C'è una versione di Model Y che è disponibile solo negli Stati Uniti ed è la versione a 7 posti. Allora, io personalmente l'ho vista dal vivo, ci sono salito negli Stati Uniti e intanto vi posso dire che sì è vero è 7 posti ma scordatevi di fare un viaggio lungo in 7. Ovviamente le dimensioni rimangono quelle della Model Y che tutti conosciamo, quella su cui sono seduto in questo momento. Se ci fate caso nel bagagliaio, dopo il primo pozzetto, quello che c'è classico nelle Tesla, se voi vedete c'è un altro pannello un po' più avanti con un pozzetto leggermente meno profondo. Ecco, quella è la posizione dei sedili, quelli due in più dietro, che si alzano e si abbassano. Quindi Tesla ha comunque mantenuto lo stesso disegno anche per le versioni senza i due sedili posteriori. Allora, come funziona questa versione? Ha la fila posteriore che può spostarsi davanti e indietro per dare più o meno spazio ai due sedili posteriori. Ecco, diciamo che può andar bene per portare 7 persone di cui almeno due, gli ultimi due dietro, sono bambini. Ecco, questo è il senso. Perché ve lo dico? Perché molti di voi in questi anni mi hanno chiesto se effettivamente sarebbe arrivata questa versione anche in Europa. Beh, sembra che davvero stia arrivando perché Tesla ha rilasciato, ha richiesto un'omologazione sia in Cina che in Europa, in particolare in Olanda, insomma, per tutta l'Europa, di questa versione a 7 posti. Rumors dicono che verrà prodotta a partire dal mese di ottobre per ora in Cina, magari possibilmente anche in Germania, cosa che trovo abbastanza possibile. Allora, potrebbe essere effettivamente veritiero aspettarsi questa versione a 7 posti verso fine anno. Potrebbe poi non succedere niente. Magari hanno fatto l'omologazione e non si conclude niente. Non lo so, non lo so. Stremo a vedere. Potrebbe questo avere qualcosa a che fare con l'aggiornamento, diciamo, il refresh Juniper? Beh, no. Secondo me sono due cose che vanno su canali totalmente paralleli. Sì, perché comunque anche in caso di aggiornamento, di refresh al nuovo modello Juniper, la struttura dell'auto rimane sempre quella. Quindi Tesla potrebbe tranquillamente inserire i 7 posti nella versione attuale e poi cominciare successivamente a produrre il refresh, che comunque io mi aspetto non prima del 2025. Comunque, per chi aspetta la versione 7 posti potrebbe essere una buona notizia. E ora parliamo del programma referral. Ve ne ho parlato proprio ieri, perché nell'aggiornamento dell'app nel codice c'era qualcosa che riguardava proprio la reintroduzione del programma referral. Vi ricordo, quel programma che offre dei premi, diciamo così, dei vantaggi ai proprietari e a chi acquistano nuova Tesla tramite un sistema di punti o di buoni a credito per lo shop. Ecco, effettivamente ieri il programma referral è stato reintrodotto solo negli Stati Uniti. Vi ricordo che era stato sospeso il 30 aprile per essere rivisto. Come funziona questo nuovo programma referral? Secondo me è molto, ma molto meglio di quello precedente, sia per chi compra che per i proprietari. Sì, perché utilizzando un link referral, chi acquista una nuova Tesla ottiene ben 1000 dollari di sconto. Insomma, che non è niente male. Mentre chi propone il proprio link referral ottiene un credito di 500 dollari, che è cumulabile per 10 crediti, quindi per 10 volte fino a 5000 dollari nell'anno solare. Dove possono essere spesi questi crediti? E questo, secondo me, è veramente la grossa differenza rispetto al passato. E qui io credo che Elon guardi i lampi perché l'ho detto parecchie volte. Questi crediti possono essere spesi in qualsiasi modo. Nello shop Tesla, con l'acquisto di upgrade software, quindi per esempio l'acceleration boost, per esempio l'autopilot, sul service, quindi se dovete fare un service a pagamento potete usare questi crediti, ma anche e soprattutto per l'acquisto di auto nuove. Quindi se avete dei crediti, avrete dei crediti, e vorrete comprare un'auto nuova, avrete una sorta di buono sconto. Allora, attenzione perché queste modalità sono attualmente reali, cioè esistono solo per gli Stati Uniti. Sicuramente arriverà qualcosa anche in Europa. Non è detto che le modalità siano o saranno le stesse, quindi magari potrebbero tenere il sistema crediti, come quello che c'era fino ad aprile. Attenzione, se avete ancora dei crediti, quelli continuano a valere normalmente come valgono fino a oggi. Quindi col cambio del programma, il cambio del programma vale solo per i nuovi referral. Attenzione, comunque sia, non ci resta che aspettare e a questo punto mi sento di darvi un consiglio. Se siete vicino all'acquisto di una nuova Tesla, beh, probabilmente vale la pena aspettare qualche giorno prima di fare l'ordine in attesa dell'uscita di questo programma referral, perché se comunque vi propongono 1000 euro di sconto sull'auto, beh, probabilmente meglio aspettare qualche giorno. E ora parliamo di una nuova opzione del configuratore per Model 3 Performance, perché come sapete la Model 3 Performance ha di serie i cerchi da 20 pollici, ma sul libretto, a differenza del modello precedente, sono presenti anche i cerchi da 19 pollici. E Tesla offre direttamente con l'acquisto la possibilità di acquistare anche il set per cerchi e gomme invernali al prezzo, al costo di 3800 euro, che alla fine, se ci pensate bene, già solo le gomme più o meno costano circa 1500 euro, se andate da un gommista qualsiasi, parlo di Pirelli. Aggiungete i cerchi, aggiungete i sensori di pressione delle gomme, insomma, non è poi così male, considerate che è tutto poi originale. Quindi se vi interessa, tra l'altro, se avete già acquistato l'auto e vi interessano anche i cerchi, potete acquistarli anche sullo shop Tesla. E ora un ringraziamento e un saluto a Gianluca, attenzione, adesso vi leggo così capite chi è. Ciao Fabrizio, oggi la mia Model 3 a trazione posteriore ha compiuto un anno e fatto 25.000 km. Beh, auguri e grazie di averlo condiviso con me e con tutti. Ti mando un altro contributo per il traghetto per Olbia 2025. Il porcellino si allarga e cresce, grazie per i tuoi video. Sì, perché ho promesso a Gianluca che faremo un raduno in Sardegna. Beh, promesso, lo spero tanto, ovviamente poi vedremo, però intanto ti ringrazio tantissimo per il tuo supporto. Io accumulo e vediamo un po' se riuscirò a venire a trovarvi in Sardegna e lo spero davvero tanto. Grazie, grazie davvero tanto. Questo è tutto per oggi, vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie a tutti.